Nelso, fa ordinare a me. Cibo cinese, desidera? Vorrei fare un'ordinazione. Cosa vuole? Ecco, vorrei tre porzioni di pollo alle mandorle. E poi? E poi tre porzioni di riso bianco. E poi? E poi? Ah, ehi, vi va la zuppa? Certo! Allora, tre porzioni di zuppa di guanton, capito? E poi? Oh, anche dei biscotti della fortuna. E poi? Credo che sia tutto. E poi? No, è tutto. E poi? Niente e poi, questo è tutto quello che voglio. E poi? E poi, e poi, e poi io, e poi niente altro, ho finito di ordinare, ok? E poi? Ah, no, no. Vede, voglio soltanto tre porzioni di pollo alle mandorle e tre porzioni di riso bianco. E poi? E la zuppa, no? Oh, e la zuppa di guanton. E poi? E fortuna biscotti? E i biscotti della fortuna, sì. Quindi vogliamo solo il pollo, il riso, la zuppa e i biscotti della fortuna e nient'altro. E poi? E poi? E poi metta tutto in una busta di carta marrone e me lo porti di corsa perché ho una fame nera. E poi? Ehi, io mi rifiuto di giocare a questa rottura di palle cinese. E poi? No! Niente e poi! E poi? 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 No! Niente e poi! E poi? E poi cominci a farmi incazzare, lo sai? E poi? E poi? Ora vengo lì dentro e ti infilo il mio piede tra le natiche Se dice poi un'altra volta E poi, 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 e poi E poi